Vai, vai, Vitaletti, metti, metti il tuo remix, remix zone per voi, dalla tenuta per la tenuta per voi in questo giovedì 29 di agosto, auguri al papà mio con Piegliani e vai con il remix di oggi, vai Vitaletti Eh, questo era il bello della diretta ragazzi, nice to meet you di Magic Dragons, avete sentito? Ma adesso noi dobbiamo sicuramente, e dico sicuramente, partire con il nostro fottuto remix che oggi è giornata di giovedì, è giornata di remix, allora cosa state guardando e allorché aspettando? Vi do il nostro remix del giovedì, statevene bene, statevene accorte, cominciamo con la musica mixata, si fatta Vai, 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 dall'America Dagli Stati Uniti, Goo Goo Dolls e poi altre canzoni, remixate Gli Stati Uniti 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 Grazie a tutti. 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 Oh... Ah... 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 Allora cari amici vi è piaciuto il video? E allora fate like e iscrivetevi al nostro canale di Radio Russi. Non perdete tempo che io ho bisogno di voi, ho bisogno di voi!